Il Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri ha incassato la fiducia della Camera, però il caso non sembra chiudersi anche per le indiscrezioni che trapelano ora sulle nuove rivelazioni di Salvatore Ligresti. Dunque tutte le reazioni ce le facciamo però da raccontare dal nostro inviato Roberto Secci. Roberto, buonasera. Buonasera Laura, il Ministro Cancellieri non fa tempo a tirare un respiro di sollievo che subito arriva questa altra notizia che trapela, come dicevi tu, dagli interrogatori di Salvatore Ligresti. Mi sono fatto l'attore presso Silvio Berlusconi di una richiesta del loro prefetto di Parma di restare presso quella sede e non essere trasferito, dice ancora Ligresti, missione andata a buon fine. Il Ministro smentisce, dice contro la dimensione accadimento fortissimo, bisogna capire qual è l'obiettivo e l'obiettivo sembra essere chiaro, lei. Naturalmente la polemica di oggi non si ferma ai risultati che sono emersi dalla votazione, come riferiva poco fa Giorgio Santelli. Tra l'altro la mozione di sfiducia è stata votata dalle opposizioni con 18 voti in meno rispetto a quelle disponibili, ma anche nella maggioranza ci sono state difezioni. Subito sentiamo cosa ha dichiarato dal nuovo centrodestra il Ministro Beatrice Lorenzina. Sicuramente è una vittoria di tutti quelli che come me sono garantisti. Il Ministro ha detto esplicitamente come stavano le cose, la sua azione non ha costituito nessun atto di legittimità, si è trattato di un'azione umanitaria come ne ha fatte tante altre. Resta da riflettere il modo in cui vengono utilizzate le intercettazioni telefoniche oggi, che ancora una volta diventano uno strumento a volte destabilizzante. Il nuovo centrodestra chiederà che su questo fronte si lavori? Noi abbiamo sempre chiesto, credo che l'Italia abbia bisogno di una certezza del diritto per tutti, anche per gli amministratori. Se Scelta Civica considera questo risultato della fiducia un ottimo risultato, della mancata sfiducia un ottimo risultato, dicendo che in caso si ravvedano responsabilità del Ministro sarà sicuramente lei la prima a fare un passo indietro. Nel PD ci sono ancora posizioni diverse, molti sottolineano l'esigenza di fare chiarezza e che il Ministro possa davvero valutare l'abbandono del suo discastero. Abbiamo sentito tra tutti, molti altri ve li faremo sentire più tardi, uno dei Renziani più vicini per l'appunto al probabile prossimo segretario del PD. Chiusa perché il Presidente del Consiglio in modo molto netto ha espresso un concetto semplice e allo stesso tempo politicamente impegnativo. Ha detto che la sfiducia al Ministro Cancellieri è equivale alla sfiducia al Governo, quindi significherebbe mandare a casa questo Governo con tutte le conseguenze del caso. Di fronte ad un'argomentazione del genere cambia l'oggetto della discussione. Non è più una valutazione sul comportamento del Ministro che ha suscitato tantissime riserve nel PD, in particolare da parte di Matteo Renzi e dei suoi sostenitori, ma è diventata una questione politica di fronte ad una mozione di sfiducia dell'opposizione. Di fronte a questo, io ho detto con una battuta, il Governo si è giocato il secondo jolly che gli rimaneva nel mazzo, il primo con il Vice Premier Alfano, su una vicenda che abbiamo forse dimenticato un po' troppo rapidamente, quella relativa al Kazakisen, il secondo con il Ministro Cancellieri, il primo più grande. Da Forza Italia parla Daniela Santanchè e dice che oggi il PD per difendere Letta si è scoperto garantista, ma subito dopo torna all'attacco dei suoi rivali politici in primi, Silvio Berlusconi. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie, buon lavoro al nostro Roberto Secci e adesso andiamo comunque a parlare.